Il beccale... no eh Let's go Minchia ho mangiato tipo 4 fette di salame con dei grissini e un'insalata Tra mezz'ora mi verrà tanta di quella fame che mi mangio O il cagozzo o la fame O tutte e due Anche può essere O il cagozzo e fame perché se ti svuoti poi Minchia fede, lo giuro che lo banno quel coglionazzo Giro che prima o poi lo faccio Bello 21, che schifo Ci sei Clay? Se ci sei ti invito subito Babano che ieri ti ho invitato, che sei entrato nel party Ti ho chiccato che devo fare l'aggiornamento Ti ho rinvitato, neanche cagato Clay Mortacci 2 Neanche cagato A Bottazzo giocavi con i sub e non ne sapevo niente Tu sapele legge le teleglam? No? Tu non legge le teleglam? Allora tu è della fanculo Minchia Clay, se non entri adesso che ti ho invitato Ti giuro che ti arrivi una frappa al limone Ciao Valerio Cree, Gigi, Clay Grazie per lai Ti ho invitato Clay Sono cheater Cazzo floscio Ti ho invitato anche ieri Sono cheater Che ti sta continuando a invitare Sei un cheater Ma che bel diluvio che sta scendendo qua da me Ma chi caga telegram sei rimasto indietro al giorno d'oggi si usa Discord, sveglia Che bello Oh, oh, Gigi, Gigi Guarda, ma ha scritto Cree Ma chi caga telegram sei rimasto indietro al giorno d'oggi si usa Discord, sveglia Cree, sei l'unico stronzo che non sta giocando con me E che usa Discord, coglionazzo Sì, probabilmente è vero Coglionazzo Discord si usava prima di telegram Non mi è arrivato Minchia Clay, giuro che ti banno Oh, è arrivato Buonasera Buonasera, vedi di leggerlo telegram Cree Attiva le notifiche, testa di minchino Allora, vuoi fare partire? Non lo sento Clay Ah, perché ce l'ho mutata 50 euro e parte Sì, sì, io lo sento Clay, mi senti? Sì, ti sente Bella, bello, com'è? Bene, tutto a posto Ok Quattro gatti che giocano con me Esatto Perché prima di essere il coglione Che giocano con me Perché? Te non stai giocando Che usi Discord Ma da fanculo Mi piacciono questi quattro gatti Sono i best cats No Come best cats? Ti mando un po' di stellone No No, sono male i best cats Non ti preoccupare Clay No, no Sono male, come best cats Mi supporti Tato, mi supporti Non ti preoccupare Non ti permettere mai più Due Eh, sai, lavoro Poi lavoro sempre Eh, lo so, Tato, lo so Fai tranquillo Facciamoci qualche game Marti, gioco me Grazie per il like Yeah Everybody Oh mio Dio Oh mio Dio Che voce sensuale Oh my God Oh mio Dio No, no Cri che bannano No, no Non passo Scrivere ste robe Ma che fa? Tutto bene, Jody? Tutto stai, Tato? Tutto bene? No, no Non rispondere che si vede Mortacci 2 Pezzi di merda Rispondi, rispondi Dobbiamo farlo bannare Minchia Mi banno Grazie per la condivisione Belli Clay, Gigi, Jody Grazie mille Belli mia Bella mia Tutto bene, Jody Tutto bene, Tato Tato, come stai? Ok Davvero Aspetta che Sono cose buone Sono sempre cose buone Jago Poker, super like Buona zera One Four five Yes One four five Oh, che una cazzata C'è posto per giocare Come a delle 21 Qua sembra molto una voce La vede giù, guarda Jody La vedi dopo, guarda Le 8 Ma mia Clayton Parte subito Con le 145 Stellone Bransky Come on Grazie Clay Gentilissimo Brody Con la voce sensuale Le stellone Hai vinto tutto Bro C'ho il grillo Tutto rizzo Ma sei tranquillo Io chiedo Non sa Ma c'hai sempre Grillo rizzo Giusto Davvero anche quello Secondo me c'è qualcosa Che non ballo L'acqua Guarda niente Non muovi capire Grazie per la condivisione Dato No Penso mi piacerebbe fare Il, come chiamo Il doppiatore, no? Beh Sarebbe un bel lavoro Fare il doppiatore Ah, eh sì Sì, eh Sì sì Si sta Mamma mia Utilizzare Sì Fa la protezione Ma è locco Usare il senso Ah 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 Finchia No, non ci credo Di vastante Dai Stando l'oppo attenzione c'è una brava attenzione dai ragazzi tende 10 jody per le 9 le 10 un posto se lo trovare adesso le 8 siamo tanti tanti ma a fine tempo io però torni, torni dopo torni dopo ho mangiato o no? ma si se c'è posto si a te ora? non lo so di preciso sinceramente allora forse jody dopo qualche partita vediamo se fede va a mangiare se ci sei puoi fare le 9, 9 e mezza fede vediamo non ti preoccupare se c'è posto dopo questa o quella dopo i soldi soldi fede se avete potuto trovare soldi ma ce li hai te fede cazzo sprendili arrivo ciao come stai? francesco simoni gavriere fai la lega per lei guardi via questo se no perchè sei indietro lancio 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 facciamo il lancio grazie creeperle 50 se vuoi bene anche tu sei strunzo e usi Discord come i minchioni andiamo usciamo cattivi control e moriamo no minchia ma perché ho le scentex cazzo tutti top mamma mia faccio una strage c'è la stati occhio a bombi due due qua piccolo verso punto uno si resta guarda fede che l'ho uscita ma dietro di voi con gli nazi che sei resciato il mio ma porco ma porco io voglio ma io mi dissocio ci credi si ci credo ma porco due perché l'ho noccato io figa e ve l'ho chiamato due volte e io pensavo avessero contarmato porca siamo andati giù a palla di cannone a piccolo eh palla di cannone cazzo sovra ci sono fuori eh fuori devi clipare te già come mi sa ma ormai è tardi punto esclamativo 120 no cecchino da lo ha preso seee forse alle nove carie arrivo a pusharmi vengo 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 avanti la marina ci sono i suoi ancora qui riazzi 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 che siete tranquillo che sei tranquillo riazzi ti controlla dietro no dietro malo non ho avuto neanche per le 9 forse eh devo vedere telegram che era la marty sicuro ho avuto poi c'è reitz che doveva venire alle otto però non c'è quindi immagino si colleghi verso le otto e mezza fede si torna da mangiare provo a farti fare qualche gameplay c'è gente c'è gente adesso vado a rileggere dove andiamo prison ma ma jody c'è ha capito che dopo questa o quella dopo c'è posto poi il kri appena c'è riposto ti invito va bene no! cerco di far giocare tutti io raga sulla tetto sul tetto guardate beh si già tuttoni è la prima volta che giochi con noi forse nooo no col mochi si è causato il capo un po' alto, forse ho un po' giù su nova raga troppo no la wall era nova se atterri c'è un bombardi che venire che venire mi colpite che prendo il lancio perchè non ho l'arma no hai detto che prendo il lancio perchè non ho l'arma chi si prenota c'ha il posto sicuro, capito? però se si libera un posto, io faccio truccarlo secondo te ma porco, oh mi sto rompendo basta, io pusho, mi sono rotto, però volevo... palle, posso dirlo Facebook, palle, mi sono rotto va va, fanculo, vai, mangia si, si, aula riccardo, grazie per lei, che da doveva, come stai? l'ha tritati giù in diretta, ne guarda questi hanno preso, eeeh il peso è l'hones si, quello è l'hones crackare è la nuova meta minchia, qua dentro a casa azzurra, rega bruciamo come dei dragoni, che questi li voglio vedere spappolati attacco a grappolo alleato una terra let's go baby non credisci c'è tu non challengeare i fucking molti oh, un cerchino oh, un cerchino 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 c'è una pushata che anche lui vola in Normandia un cerchino due a terra due a terra due a terra dove? casona? tre a terra casona, casona, tre a terra ecco, ho failato l'ingresso uno vessato terra so io, so io che è uno sbaglio? no, no, guarda, guarda che ho fatto fare? e ne mancava uno era riconicato ah, ma è finita? bella let's go GG JEEE! DuccoIFO! Mi sono sempre norvi se unie, io, bro, io. Ducco, bro. V implied come scusa, ma che ha riuscito, Ericka è il punto di riuscire. Grazie. c'è ragazzo bella ciao Brody andiamo 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 e e tapposti tapposti chi ha meno kill è un minchione vediamo eheh nooo ma come tutti e una ahahahahah ahahahahah ahahah nooo ma come tutti e tre minchioni nooo lo spareggio ma come ma che è successo chi la faceva di meno usciva ahahahahah buona gara l'ho vinta io eh con 2.000 di danni però ah fa vedere aspetta giusto eheh eheh anche io con 2.000 di danni eheh se se il gg avanti ciao pierre grazie per lei chitato vediamo se viene erjory don't worry be happy ciao a tutti bella jody bella jody bella jody ciao 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 bella bro com'è che ti ridi te aspetta che mi era bella la storia in grecia raga era bella la storia raga era bella la storia raga eheh comunque monti la canzone storica non l'hai messa quest'anno no sempre la solita canzone storica dai inizi no aspetta com'è che aspetta ah eheh my balls ah my balls era bravo non mi dia il titolo my balls è lì ecco bravo è vero quelle storie eh eh quelle storie veramente quelle storie veramente la devo rifare senza copyright anche solo la base un po' la cantità eh si ci starebbe ci starebbe si è bellina la skin ho pagato 20 euro sta skin è carina eh si si è bella però 20 bananone tu gatto pardo qui l'oress grazie per lei per la condivisione poi c'è quella di Schwarzenegger figa Daniele con le 50 bombe broski grazie per il supporto tatone let's go un mega bacione tato grazie per bibi 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 Giody abbiamo fatto una win eh ne dobbiamo fare un'altra devi fare 50 bombe eh minimo eh 60 aumenta eh ogni volta che ti è aumento no no va bene va bene va bene non dico più niente andiamo com'è stato ritornare nella tua città dopo una bella vacanzina in Grecia tutto rilassato in spiaggia coi cochi a cazzeggiare no no non sentivo niente mi sentite ora? eh ora si c'è Polonia ah bello si è molto bello molto molto bello peccato che dura solo una settimana eh vabbè dai una settimana meglio di niente assolutamente assolutamente grazie mille grazie mille Cri per le 50 bombette te se vuole bene scusa ma non riesco a leggerli che c'ho gli occhiali che ormai non hanno più il grado giusto non riesco a leggere però grazie per le 50 ah 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 è partito il party di stelle dai cazzo completiamolo donatemi 380 miliardi di stelle portaggi vostri venga il cagotto via cosa cos'è? ti rimettono caldera ti gasi caldera ci caco sopra no verdans scusami mamma mia quanto mi manca ti manca eh pigliare i piselloni lì della mappa lì c'ha anche l'oraccio c'ha anche l'oraccio era un po troppo verdans ah 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 bannate questo obo raga le palle stanno toccando le unghie dei piedi io l'ho capito adesso te li do io criti li do io ti compro 580 pizza senza glutine e mortacci tua però devono essere buone se no tutto è gratis andiamo raga pronti tendopoli andiamo 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 ancora minchia ospital via ragazzi gioia 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 vittare con i serenitati che si fa? muore tende tende gg occhio che se scuoreggio senti tutto da lì eh dietro ai me occhio chi è buon che mi ruba? guarda guarda niente questo vaga è rosbo deleghi il lavoro credi quelle senza glutine non sei all'altezza delle pizze di difficoltà hard style mother fader andiamo contro raga cg avete il grillo duro andiamo ok posso da solo muoio così non mi posso dare la colpa ottimo chiudiamo no no loot ok dai ok soldoni giù uh li lascio scacare uno dai 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 namo prison famo vedere come non si gioca occhio ma cosa fa questo? questo prende una pisolata in oro se è vero esco solo che mentre dorme è sicuro sono sempre lì no li so di gigi ma è mia gigi il movement spettacolare giuro che si muoio perché stanno ancora guardare il loadout c'erano quattro madonnoni che faccio risolgere tutti pariti qua 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 dove dove fa uno fatto gli altri tre stanno salendo a control si 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 con delle bestie di sacco guarda questo lo ha pingato uno eh raga ma dai no 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 ce ne sono due da basso no 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 completamente ma proprio a livelli ecclesiastici mi dissocio però non ti sforzare che guardo sta sentito una un po troppo spinto 300 di danni zero kill bene ma non benissimo sì sì matematissimo ma non è un bravo schifo ma non era questo ma c'avevo no C'erano i steams su questo PG? Non lo so Salvo questo Blackbello Il nemico è qui Nooo Bella salvo Fiiiighe Com'è? Sta a posto? Sta a posto? Come sta il muchacho? E' un uomo I soffricini Un tappo Fa piacere dato Che bella serata Che bella serata piove E domani non si va A lavoro E' piove, piove E si nerda E fa il bannino di lavoro ragazzi E domani non si lavora Si sta a casa Si sta a casa A nerdare come un dragon Basta piantare ombrelloni Vieni all'Euronics 2x1 Il treno per Grosseto E' al binario 2 Allontanarsi dalla linea gialla Grazie Prende lo strapon E non cazzo in Giacomo Grazie Il treno per Grosseto E' al binario 2 Io mi immagino davanti allo specchio Che si fa tutte queste prove E si gasa Proprio A 100% Mentre se la vi dici Attenzione Un super figo Sta per passare Detro di voi Compro la diarrea Prostamo Per la prostata sana Dito in culo Per la prostata sana Che picca Ma c*****o Ma c*****o Ma c*****o Ma c*****o Ehm Uuuuh 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 Ehm Eh Beh Ragazzi eh Stavo diamo male Eh Un con la tua voce E molti che muove solo la bocca Che sei Un speedy salt Che ti fa a prezzo Che muove la bocca A ripa la ruota con un bel delay così viene proprio del merda so Monti che ti piace muovere la bocca però no no ti dissociamo amici tutti amici parenti no mi dissocio si chiama via linguaggio scurre in giro adesso metto vedete come sarà il nuovo modern warfire modo guaffa spero bello spero bello ma al duccio mani che schiene nello spazio Micho astronauta Ok, let's go Ok, bro Dai raga, più di zero kill, dai cazzo ce ne facciamo, dai! Let's go Devi essere, devi pungere come un'afa Come un'afa E di parare nel cielo con una campagna Andiamo, fuggiamo Via, via, via Qui ci sono Fuggiamo Bene Fuggito Fuggito Sotto due Sotto due, tetto grande Stanno salendo Due team sotto, eh raga Qua è traccato Qui sono io Stai Stai Spesso Sotto due Stai Qua craccato, una terra, una terra Passo grande Qua è ancora uno, qua ancora uno Due, due Qua c'è uno davanti a me E camparata Tutti nascosti sono Trovo un'arma Ma questo è la tua, dai cannoni? Ecco, si è chienato, vai No, è un'elicotta Andate via da qua, andate via, raga, via, via Via, via Troppo buon giorno Ma guarda questo Oh, quest'elicottero Ma? Nacco male, nacco male, per me No, mi dissocio Vai guardate via, non fa livelli 10-10 Pronto, non è l'associazione Punto di avono vittato Temporo della squadra in rietro Prison Da dietro ancora Non ce la sono Non ce l'ho riuscito a scappare in denne Grande, bro Occhio, c'è gente da nonno No, c'è un pallo d'auto Se c'era davvero un'arma lì Veramente? Ah, era Dio, era stilato Sì, però Beh, ancora c'è la strada e e e e e e e e Pintino, lui vuole Parlate? Eh vabbè, oh Eh dovete dire dove sono Le scaldette? Eh ormai sono morti Sto sul tetto, sto sul tetto Ormai sono morti Ah guarda qui Due, due Stuprato, Mirko grazie Che bello, buonasera Brodsky Com'è sta sbucciacione Un po' di fortune skip Magari sono un po' più tranquilli Ah vabbè ci puoi rifare No, mi brucia il culo Devo aspettare un attimo Ah bene Aspettiamo un attimo Cambiamo un attimo Mabba Che mi fa male Non riesco a sedervi Quindi aspettate un attimo Ti voglio un po' di fumata però Sì, un po' di mie pante Non mi fa bene I sufficini come si stanno messi? I sufficini? Saranno tutti bruciati Fra occhio Occhio Prende fuoco Tutto Ma come si sblocca? Ma Come faccio a sbloccare questo? Scusa Cioè devo beccare vanguard Ma siete stronzi? Ah no Mitragliatrici leggere Ficile canna lì Sì Non la farò mai Non la metti più Gigi La skin invisibile Eh Gigi Che buoni Che buoni I sufficini abbia Gigi No Mi sono offeso Ah ok Bene 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 Sì me l'ha funzionato Allora Eh Sì È bene Buoni Mi sono offeso Caldi Caldi Mi piace Caldo Caldo Lui Grazie per il like No Mi so che non devo dare mettere Oh Hai cenato zio mountain? Sì Nonsalatina Mangiato Eh Che se poi io mangio troppo quando stremo, poi mi viene l'abbiocco, cioè mi sento proprio... Dormitato, questo è leggero Dai raga, fucking graveyard, siete carichi voi per Warzone 2? Dai raga, hai due mesetti eh, due Grazie ragazzi, due mesi, dai, figa, quando torno dalle ferie, eh, fondo pronto per neppare contanti, dai io A ritare a gratis o lo ripagherò? Non ne ho idea, entra grazie Oh mio Dio ne ho tre raga, dai, ho quanto si mette a caricare l'arma, dai, per favore Ma che cazzo è? Però, pensavo peggio, vi devo dire, ti devo dire, pensavo peggio Aiai aiai, cabroni Niente, niente, niente Dobbiamo stare tutti attaccati raga, se no non prenderemo mai neanche il loadout Easy proprio Io faccio l'ultimo Caro, io li devo staccare Va bene Broschi, non ti preoccupi Non ti preoccupi Ma magari a martedì prossimo con calma Come vuoi Karma sbloccato Numero atomico 27, Karma Ehm Oh, che ria Adoro la puttana Nooo, mi dissocio Minchia, ma proprio così, eh C'è, nonchalance Un intercalare Io mi dissocio proprio, ragazzi C'è, la live è più Sì, ma, ascolta, Monti E' come il tuo E' come il tuo vienimi in faccia di ieri sera, guarda Eh, effettivamente Però quello Ma quello Ma quello, no, mi dissocio Quello è per persone che vogliono vederci doppi sensi, Gigi Capito? Eh Ah, non è in partita, non mi sente Vattene a fanculo, Gigi, allora Bannano la live tra due minuti, per sempre, la pagina proprio Ma, va Eh, eh Eh, perché vengono i sottotitoli, Fra Quindi viene registrata, eh Come parolaccia L'algoritmo, poi So cazzi, bro Eh, ma, scusa, ma Eh Vabbè, non posso far nomi di altri Di altri, di altri Streamer Eh, se sono già big, Fra non gliene frega niente Perché l'algoritmo non gliene frega niente I numeri ce li hanno Oddio Eh Dipende, che dici, però Fa 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 Meno sia volgare, meglio è Poi, vabbè, io ci metto le smina Sì, beh, certo Assolutamente Io sono fatto così, mi piace Però Hai una volgalità molto apprezzabile Esatto Esatto Però altre, minchia, l'algoritmo più cattivo Però, vabbè, ho capito, ho già capito Che non è facile, se non è abituato Bravo, Clay Hai sentito tutto qua, eh Dietro, 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 dietro Straccato Confitti, colpi Colpacci Guarda è sceso uno, eh Oh, raga, sul tetto Ma è pezzo che è strano Quale, quale, peggio Ma è Grazie Sì, dai, scusa, guarda, guarda Sì, scusa, guarda No, vabbè, sto pericolo Stai nell'acqua lì, non state Ciao, amici, come stai? Grazie per l'actato Buonasera Davide, grazie per l'actato Stati uniti, raga, almeno voi in 3 dovete muovervi in mezzo agli angoli Perfetto, così, esatto Esattamente, vai anche te, GG Eh, questo è lo 547 Ah, non gioca, insomma Iniziamo con la copiata Eh, sì, mica Ma c'è anche le sue armi, queste Ma lo down, raga, non è ancora asceso No, non ancora Lecca del Maranone C'è la Blix in questo, bella fatta sua anche Ai piedi Ai piedi Ciao Davide, come stai? Tutto bene? Marco, grazie per l'acto Bello, buonasera Dai, raga, sono a piccolo Cusciatele in 3, cazzo Sono dei bot che stanno giocando con I piedi degli amici in Wi-Fi Mi chiamano proprio lì, dove va a scendare sto lot out? Niente E... Tranquillo, Gigi, non mi starà una mano No, no, vai via, vai via Questi ti violentano l'anima Vai via, Gigi, ti stuprano Come devo dirtelo Vai via Oh Eh, a volte non vedo la scritta Mi salta la scritta Un secondo Il segreto è sparare ai piedi Sì, sì Non è, amici Per forza Non ho certe kill No 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 Sono ancora Devo Ehm, come vedete No Sì, sono forti E ne è uno solo Cioè, due ore Un soldato nemico Un tuo alleato è appena rientrato E' a one shot Un soldato nemico è qua vieni giù vieni giù vieni giù vieni giù vieni giù raga sotto contro il grande ciao manu grazie per il leg bello buonasera buonasera oltre che ti arriva lei io non sono il cuore di città dove l'ho dato caccato uno sotto contro non ho pianto me le ruba Gigi no no tutte tue te le confermo solo no no le piastre ho dietro ah scusa ma dai a te che spara dove one shot eh non andare non andare che c'è il gas ferita su ma te la becchi che hai pagato la cazzo oh ma dai sotto mi ha tarato uno attento un'altra sopra grande oh bravi che agonia andiamo a prison belli sì bravissimi eh bravi tutti bravi tutti andiamo andiamo a prison ci siamo? sì 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 dai ci sono 4 che mi guardano non so perché perché sei un pro zio eh sì con 3 kill un pro ambiguo ti è finito eh? sì bravissimi sulla torre che è sotto di noi ooooooooooo l'ho vista in diretta bravissimi l'ho vista in diretta bravissimi la più bella kill della mia vita, giuro parlate, se li vedete, mi raccomando sopra la torre, tetto è proprio top, top, top trip dai, tetto a terra qua al lancio tetto a terra, al lancio tetto a terra, al lancio una mano, una mano dov'è che suona? monti, monti, sto scendo il quarto ti fa il team, esce il quarto quarto dentro stavo per fare una quadrilla anche io anche io qua ce n'è una niente non ho maschera, cazzo non ho maschera, cazzo no, ci ce l'ho da dove? da dove? da davanti, da davanti dove? cos'è davanti? da sotto no 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 audio audio GG! Non ci alleggiare f***** Monty Python! Let's go! Grande Monty, grande, grande! Andrai baby! GG raga! Come on! Let's go! Bravissimi tutti, bravi, bravi! Bel game raga, bravi! Anche io ho tre bombe, adesso ho riuscito! Va benissimo, ognuno ha dato, ognuno ha dato! Oh, io non riesco a salire sopra le scelte, incredibile! Sopra le? Sì! Alle sette! Ragazzi io vado, ci sentiamo... Bella prossima! Bella Giorgio! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie mille! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Che bella entrare in live e vedere un commento avversario, you cheat bro! Grande! Ragazzi! Eh sì! Cambia così! In mia vita! Grazie per esser passata data per il like! 23 sbombolotti! GG Davide! GG! We're gonna have some fun! You cheat bro! You cheat bro! Va bene! Citto! 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 Anyone seen and lie! Do 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 do! Do 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 do! Do 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 do! Ehi! Com'è? Oh! Oh! Oh my goodness! Bro! C'è un bell'articolo! Ti dicono che in Italia si paga... Paga poco! Vedete che ci paga? Paga praticamente... Dice in Italia! All'Europa in trappola! Paghiamo l'energia tre volte più di prima! Ciao Martii! Buonasera! Let's go! Pia! Come stai male? Tutto bene? Poi? Sì sì! Comunque quell'altra mini mappa è un macello pure eh! 14 skips! Eh! Non è tosta? Sì un po' sì! Abbastante tostariella! Il tuo PC influisce sulla bolletta? Eh! Beh un po'! Però non nerdando tanto c'è tra orette! Sì però no! Computer consumano... Cioè non consumano più tanto come prima eh! Prima con l'evento le consumavano di più! Sì? No! No lo so! Io prima non ce l'ho mai avuto! Eh! Computer vecchio consumavano un botto! Ah beh quello sicuro! Però allo stesso un pochino! Come l'evento le... Cioè tutto che va a scheda video processero un po' consumerà però... Neanche troppo! Si sa che è la cosa di raffreddamento no il computer! Sì sì! Anna grazie per il like! Tanta roba! Tanta roba! Mi è venuta voglia di sneaker! Sporco demonio! Mi sa che me lo vado a mangiare! Vuoi uno sneaker? Dopo ventitre bombe! Lo sneaker! Sporco! Dopo ventitre bombe! Uno sneaker! Arrivano! Sporco! Che caldo! ho fatto la prova finestra spero che piove siamo in piove a casa che bel tempo c'è un soldato nemico da me alle 9 di sera 42 gradi sto prendendo fuoco ora sicilia ebbè ma oggi ma anche mai questi mesi sarà fame chimica? no no non ho fumato nessun Gian Dujotto Mattias grazie per il like alla condivisione quanto è buono quanto è buono che il Mars non lo possa mangiare che c'è un celiaco va affanculo ai produttori di Mars va affanculo vedi che ce le tutte le sfighe? tutte bra tutte poi era davvero un compagno che si chiama Don Gigi cioè Fus colpa tua 100% 100% dovevi fatti incazzi tui quel giorno ma perchè ho attaccato quel giorno lì? ma perchè? mi sono connessi ce n'era uno eh ecco eccolo qua guarda tuo protettore che ti è venuto a salvare subito mamma mia eh però me la son fatta io la kill eh eh ci sta mi sono fatta io la prende oh ho il basso no no non ho ancora mangiato se l'ho qua davanti sto sbavando vedo l'ora di ben morì che mi faccio un morso una terra di sopra gg a destra ma mangiato di brutto fatto proprio male arrivano da sotto anche occhio un altro team se l'ho messo subbiato da te oh ma c'è da qualunque come stai ma è tutto bene dato o bravo 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 come stai a one shot Una sacchetta con la yaşam cura di Systems M. A presti gettini di vessels, ma si Sam, di felice. Da C. Suseve. justup Della casa del nonno. Scevano? Anche sono sceso. Guardate. Ma roba il mare, fuori. Eccolo va. Ah, lo sapevo! Eccolo. Paganza! no ma guardati sto camper no vabbè raga no vabbè raga allucinante mi cagherai in faccia davanti a casa loro li prendo e li cago in faccia ovviamente si scherza amici di facebook mamma mia dai faccio l'ultima e vi lascio anche io vale farti un oriberto volete fare l'ultima che vuoi tu a te la scelta l'indoor marco 5 è devastante in close range le ultime versioni consigliate anche io a marco ogni giorno c'è sempre una diversa non si sa come devo aver visto due o tre in particolare questo speciale viene dedicata alla piccola solidissima smg italiana marco 5 certamente una delle migliori nell'attuale metà del gioco è una delle migliori anche l'ultima è più cinque dice vado per chi ha dei 50 kg totali 50 kg totali 50 kg totali manca poco allo schieramento separati via 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 la vera che fa anche tanto ok sneakers fulminato ok let's go let's go let's go questa pineria andiamo a graveyard let's go let's go buon vecchio cinerio siamo è stato vero è stato vero è stato vero mangio è stato vero ma non è che vai via è stato vero Ah va via eh è che vai via? a terra a terra ti vengo a distruggere Struggi, era bravo Ma che cosa? Oh, chi è con l'RPG, con l'RPG Oh, il coglione Brava, grande, grandissima E quattro pugni Proprio un pollo Dalla torre, dalla torre No, raga, quello lì aveva fatto il lanciagranate A una persona Spero che noi eravamo tutti lì Cioè, ha fatto La kill della vita Voi avete aperto? La madonna La madonna L'hai fatto? I metri sono vicino al carello La cassa è vicino al carello E uno sempre su Uno giù e uno sempre su Puscio C'è nessuno qua A terra Allora, sono andati avanti Qua terra Quante metri? L'hai fatto? Terra, eh No, dico la marty Gesù Cristo Eh, pingateli però Qua da me una terra e uno No Stare stando Stare lo temi marty, Kami Maledetto C Maledetto C Maledetto C Ter Non sono riuscito ad aggiungerti comunque, Kami Che non ti avevo tra la lista Dei contatti salvati Oh, stacco, raga Bella Bella, raga Ciao, ciao Grazie per i inbelli Buona serata Ciao, ciao Vediamo se c'è Mmm Allora, vediamo se viene Esatto, se mi scrivi su Telegram Così ti salvo tra i contatti E poi ti riesco a riaggiungere Perché ieri ci ho provato Ma non ti trovavo E non ti potevo aggiungere così a caso Infatti l'ultima volta ti avevo aggiunto tramite Matti Deve arrivare Eh, Christian Intanto facciamoci un coppiettino No 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 mi dimentico di gattiglia... va bene camion va bene va bene non ti preoccupi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto bene, Tato? Abbiamo finito il torneo, Marco. L'abbiamo finito. Purtroppo siamo arrivati tipo 150 su 1800 team. Però un buon risultato per non aver mai giocato insieme. Dai. Sono stati dei pro e dei contro, va bene così. Sono contento. Andiamo. Va bene, salvo. Contro, contro, basta. Meglio di niente, assolutamente sì, Marco. Non ci vai in vacanza, Marchetto? Niente ferie? Non ci vai in vacanza, non ci vai in vacanza, non ci vai in vacanza. Non ci vai in vacanza, non ci vai in vacanza, non ci vai in vacanza. Non ci vai. Non ci vai in vacanza. Non ci vai in vacanza. Io sono di Capri Voi andate in ferie e io lavoro Aia Aiaiai Beh dai Poi quando gli altri lavorano andate e ne vai in ferie E' easy bro Onesto o no? Scambio equo? Sì ce l'abbiamo Aspetta che gli sconti io No ava Sì 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 Perfetto 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 no no non so se ne sopra o se ne sopra ma sotto non c'era nessuno non so se ne sopra si saranno sotto vedo il nemico verso dove te li pinga non li vedo io ragazzi per il like ciao francesco come stai tutto bene erano lì sopra l'impalcatura ah no è sopra dove chezza chezza il giro obiettivo sistemato, splendido! sotto bravissimo l'ho tirato io ah, è niente vabbè abbiamo sottriso tutto bene si lavora, che ora stacchi Frenchy? stai facendo notte? ultimi cinque forza o come? beh si ma è ancora più come scara delle 10 alle 11 alle 10 beh dai che manca poco broschi dai non molla brother non molla poi ti rilassa facciamo 2v2 devo comprare 1v sono qui 35 e meno sono sotto qua proprio sotto sotto l'altro qua sotto vicino al camion GG let's gooo come on woo ma poi perchè c'era una nuova simpoli boh ah boh si arrabbanziata come dog ma poi il son di scrofiscio di pensarlo si adesso i i i i i i i i i raga gg Come on Massimo allerta Appena entrate già win GG Sei il mio portafortuna Allora Franci Per forza Per forza Baby Saibo Bra 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 Erbottazzi Finchè abbiamo appena vinto Guarda che adesso entra Blade Tardiamo Stai a vedere Andiamo per forte Perché si trova Fatto le lobby No sì 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 Però Qua dentro uno forte ovviamente Ora ci alzai Sì sì No Franci non andrà avanti la killstreak di win Entrato Blade è finita Per stasera non si vince più Ma per forza Ti vince l'anima in pazza Sì Sì Se non è fatto caso Quando Quando Gioca da solo fa 26 kill Quando gioca in team fa 5 Perché le lobby sono più forti No? Con più forti È vero È vero Trova solo bot e quindi È vero È vero È una sua volta Poi oh Gioco con dei compagni Che siete delle bestie Quindi Normale che me le rubiate tutte Io non riesco ad arrivare a 20 Eh Eh C'è da dire anche questo Ma come fa ad averlo hittato Maledetto che schifo fa il caro perché c'era adesso no dai no così schifo no l'ho messo one shot l'ho ribeccato lo secondo volto il dato cioè è impressionante dai posso fare il carlo perché ho uno che vuole perché perché questo è bello forte broken camera con banni oppo più drop shot in combo questo è bravo questo è anche l'altro bravo e questo sicuramente andrà a conno perché sono andato qua quindi andiamo prima a tendere questi ci aprono less ti apro no no sì ti ti salvo ci sei non ti sento mica ma lo sentite voi ti senti mica no ti sento mica non è cute mojo e uno ova oh Luca ah Luca ah Luca ah Luca ahaha ahaha questo è il posto qua lo è bene eh è bene è bene sì uno qua affronta noi vedete ci stanno pezzando tutti la caldo uno un altro basso verso l'amac c'era nell'angolo c'era un altro basso l'altro è andando top grande credo l'altro è andando top grande credo qui top grande c'era uno, due top grande occhio da compiuto, due grande, ancora top l'altro è andando piccolo due team forse si 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 sotto grande ancora due occhio bombardamento un altro forte craccato te lo fai parla due per terra mi serve la mano un altro l'altro che ci sono sparati di nuovo no fede sono puro appena rifatto da stanza appena appena adesso c'era il pingo sto carando si sparano dai cannoni 3 guarda 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 è un don di tornare la è un don di tornare la si siamo tutti nel regaio tranne morte ci sono buttata proprio dove c'era gente vorrebbe scendere l'odd adesso è stato in volo non è stato in volo non è stato in volo non è stato in volo che fiii c'è un peccato c'è un peccato là ho pure cazza munizione con l'ingorale a terra là c'è un peccato ma ci stava facendo la mostra finale si 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 anche da nuova mi hanno sparato vabbè no ma la miliziana come si deve messa di merda vabbè vai c'è un peccato traccato 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 uno traccato ah no mi hanno fatto traccatissimo quello che ti ho sparato oh fatto che palle dove erano? uno sotto l'altro non l'ho vinto io l'ho fatto si si era con la piccola uno lì proprio uno quagli del muro vabbè non l'ho vinto a buttare l'hai fatta l'hai fatta l'hai fatta l'hai fatta niente fra ok uno sotto qua di leaving che scesa apri il moto sta zanzara ci deve levare ah ne abbiamo una scena di sinaglio c'è un po' è troppo forte Si è. No, no, ci sono. Eh, ho sentito che era verso di partire. Nooo, alle... È partito un gioco, stai. Dentro di casa farlo. Dentro di casa farlo. Si, si, l'ho visto. Se hai auto arresto, arresto te la ti copro io. Lo vedo. A terra. A terra. Dentro, a terra. Ah, c'è un'altra. Ah, altri due sono. Facciamo. Andai, sono sul volo di ricognizione. Un colpo, un colpo, Blade. È neutralizzato. Nooo, non ti mi fa arrestare. Vabbè, dai, però è assurdo. Mi ha fatto arrestare, non ti devi sparare. Peccato. Mi ha fatto arrestare, non ti devi sparare. È dietro la base. Non sopra. È uno. Si. Si. Nooo. È da dietro. Easy, bro. Ciao Agatha. Grazie per il like. Buonasera. La prima partita, dai. regia per iluale potrer. En a mare. Гiorai. In a line, to litigation. Fuori. Que tu vedi la esfera. Buona è una giazza. Esa dio luka. Come là! È una giazza. E io e le Grazie a tutti. Quanto hai di rarmi? Il tuo account? 3.55 tipo. Grazie a cazzo cosa cambia e lo dà all'altro. All'inizio cambiava, adesso cambia un po' meno. Vabbè lo uso così posso chillarmi. Posso cazzeggiare. Ormai. Dovrei usare uno di qualche sub. Con un rato non troppo alto. Però dai non sono così forte la gente in lobby. Manca la Marte. Adesso arriva la PS4. Grazie Marco per il like e non preoccuparti. Grazie per il supporto. Ah, culo. Ah, ecco mi sono scordato di mettere... Dai, ma che culo. Mi dai il tuo account o uso il tuo account da bottazzo Blade? Ah, ah, ah. È troppo forte il mio account. Quanto c'hai di KB? 4.50. No dai, sono serio. Quanto c'hai? Voglio un attimo. 1.15. Davvero? Però dovrei avere di più. Se guardo la cosa settimanale ho tipo 1.30, 1.40. Ehi là. Occhio eh. Troppo forte, bravo. E' GPR, bro. Troppo forte, bro. Come ti ho già detto, ci vogliono 3 savi. Che insambare che è me. No. 3 savi per fare un Blade. 3 savi? O 3 di Blade? Di punta in 10. Di punta in 10. Tutti pochi? Pensavo vuolmeno una trentina. Ritorno. Eh, inizia a essere pesante. Ciao, un po' caro. Che via. Ah, yeah. Paolo. Ah, l'uovo. Paolo, no. Una aiutio. Ma perché non trovarmi? Che cosa fa? Tutti tranne noi. No, veramente. Sti pezzi di scappellossa. Ti ho vendicato. Oh, un basurro. Ma sai che c***o di merda. No, questa è vulgarità. Ma sai, che c***o è c***o. C***o. Everybody dance now. Un basurro. Eh, va bene. C***o. No. Spara sta cosa. Spara sta cosa. Spara sta cosa. Ehi, ca. Non è qua. Ciao, Francesca. Grazie per l'actata. Buona sera. Mamma mia. Una play di no. 36 di danni. Che p***o. Ecco. C***o. I 185 davanti. Peter 642. Ma. Ma. E' fuori. Grazie. Un. L'acqua. C***o. 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 ma che culo si permette rovano ne ho qua E' verde Eh, qui stanno volando l'arma Vabbè io vado a fare Io lo danno a dire, vai Questa è il grave Eh, io lo sto andando a fare dietro Oh, ma che ha questo? Che arma asma? Voglio capire che arma asma Ah, ma le armi dai Vedi che c'è un guaccio qua eh? Guarda Ah, se no ne vengo Cina 2, 4, 6 Mamma mia, ho fatto il gioco Ah, sono i zombie Ah, sono i zombie Ah, sono i zombie Ah, non è il gioco 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 Chi è il mare che tu me l'ha skillata? Ah, i zombie Stillata con la team Che mare di che che Killata in questo team Mercioda Stai a giocarlo, giocando Non ancora in cima Ah, non Mi dispiace Devo andare Il mio posto È là Eeeh Fermatevi Oh Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè 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 Graccato quello Dai No 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 Bella cosetta Graccato Graccato a terra Bravissimo Graccolones Si va bene No 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 Mi dispiace Te mandare Fatto Ho una colma Obra No Terra uno Si due sopra Non lo doubt Da dietro Ma Mi Si due Ma No Mi Stai seguendo Marti è qua da sotto Dal tunnel Ecco Due Ho sparito uno davanti agli occhi Hai fatto quello strunz E' qua sotto E' qua sotto Avete piastre Cassa piastre Sii No 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 Vado a comprare Ma Sì Mi Sono Stavendo Io Sì Mi Mi Stavendo Il De La Molta Si Si gioco da solo dai Che giuro! Ah bella ragazza, ma te lo tengo un problema Che bastardo mi intenso di fudere la armi, oh! Ah si, eh? Que bastardo mi intenso di fudere la armi, oh! Ah si, eh? Il salio per l'attacco aereo designato Staccato, una volta! E' giù, e' giù, e' giù, e' giù No, uno l'ha fatto e tu l'altro Giù! Sì Ce n'è un altro? Non capisco Sì, uno a terra e per esempio altri pass Eh guarda Sì 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 Un chile tra l'alle da terra stobottazzo Così veniva ad aiutarlo cazzo lui moriva Così veniva a fare Di qualcosa salvo difendimi Stobottazzo Eh bro siame live Nooo Non mi possa esprimere Nooo Cioè i miei bodyguard sono cecchini senza guardare coi piedi bendati si anche le mani legate no mi dissocio che c'è il copyright salvo della minghi il copy minions fumatela fumatela la borraccia ma mi stia è come una sera è questo è un pezzo 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 ma non si ascolta Sì Ah bene Sì 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 C'è un soldato nemico Voi stare puttato Tende tende parati Sì Sì Tende Tende combino qua Ritorno Via Sì 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 una terra una terra un andato su luigi grazie per il like buona sera broski andava a tiros d'alto anabiali o no? manco per te solo sopra cazzo non va stilla va stilla dai fatto fatto c'è un altro raccato raccato con il grillino c'avete lo d'auto gli altri sono a nave con il grillino c'è un'altra No vabbè dai ma che schifo come giocano è uno sdraiato e l'altro nell'angolo uno sdraiato e l'altro nell'angolo ciao massimo buonasera broschi come stai tutto bene te ne sei Ok questa è una bella lobby di teragone raga si va bene va bene si 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 Sì, non so, non so, non so, non so. sono compiuto sono compiuto campanerone ok non ti hanno salvato nooo ma ti hanno salvato ma ti hanno salvato non ti hanno salvato non ti hanno salvato ma si può giocare con l'artg, forza puttana, dai! andiamo a un po' di merda è un po' piccolo, piccolo passo risolvi, risolvi, risolvi oh si va bene non è un po' piccolo, non è un po' ma Sì, non c'è nessuno Andiamo a prison, ce la facciamo? Da te Marty, da te, da te, da te Il silenzio è uno There we go Un cazzo graccato Dov'è, dov'è? Sotto di me, sotto di me Bella Una sotto grande Sotto grande Lo pinghi? Chi è? Minchia, questo è uscito Se hai visto lui che lo miravano Quelli bravi sono nel tunnel di prison Andiamo a top prison Eh, no, ovviamente 3 E che campano in loadout Quindi tanto bravi non sono Quei campi Aspetta, aspetta, devi essere proprio sicuro 100% di buttarlo giù Salvo è qua Dove sei? Salvo Dove sei andato? l'altro sta facendo un giro largo puoi lasciare salvo da noi non star così che c'è il cecchino va bene va bene bravi non era facile come lobby non 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 In chi ha così due battle passavano completate Volete provare a fare la stanza voi magari le lobby sono un po' meno pese No no non cambia niente perché fa la somma di tutti in rate Non c'è niente Faccio l'ultima io e dopo la nanna Yes bro Ninna nanna ninna oh e a salvo a chi lo do A chi lo do Ma che è il bro Magari Pagano i gol Ma che è l'ultima è luce di luce nemmeno è giocato let's go bro let's go bro ciao davide, per lei che tato? una Barbie girl, una sexy girl, let's fantastic, mother fadiers buonasera, come stai tato? oh, sta bene mi dispiace, devo andare in il mio posto oh my god tato libero mamma mia tato non preoccupare Antonio, è benissimo così abbraccio faccio dire sui facciamento alleata fa male bella da foca di naro sono arte e andiamo a prison, belli mia bene, dovete fare un altro ruolo riuscirà a farsi una quadrupla monta? che dite, si o no? lo scoprirete nella prossima puntata mi chiamati sotto sti pezzi 100 superficie squaccia ma te è grasci motore mettere Eccolo Eccolo Queda me la nobby è di bot raga ah boccia su me in giro, non da bolletto che il gas vi raggiunge te l'abbiamo cammata che pazzo che pazzo mamma mia quel drappolo dei bombardamenti di moto il biglietto l'ho detto che ho fatto guarda qua l'ho fatto la cado qua sobra nuova zona sicura l'ho detto ma cosa? guarda ragazzi guarda 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 avute guarda 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 che 3 hai visto la roba? dai è qua è qua hai visto la terra? dai mamma mia dai 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 sono due dai 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 danno dai 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 ditemelo ragazza non mi sembra una roba difficile se avete bisogno vi fortunato non mi sembra un po' di freddo 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 perchè ho dei miei munti guarda che coglioni comunque che successo non mi sembra un po' di freddo rena rinforzati rinforzi non mi sembra un po' di freddo la partita 5 6 7 8 8 8 8 8 9 10 c'è il rege, c'è il pietro c'è il rege, c'è il pietro c'è il pietro c'è il pietro c'è il pietro l'onda non la riesce a prendermare c'è il pietro c'è confermato c'è il pietro guarda avete anche uno a vivo li andate proprio pieni pieni di soldi ma vero viene del lode giù se avete un bombarda tiratelo su prima eh non me lo vò buttare vai qua vai qua vai entra vai entra mi hanno colpito mi hanno colpito agiettivo sistemato flesso guardamento di precisione allenato attenzione dai lo shop lo shop mi hanno colpito 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 chi era dietro di me sono morto che camper sulla butte mi hanno colpito mi hanno colpito un ampio munizionale non confermarlo vai via vai via vai via non confermarli non confermarli vai potete arrestare raga va bene 3v1 siete 3v1 bravi la parte dei rocci che sto giro in bedrock per quanto sei kill di timmo stiamo bravissimi mi spiagge non andare in mio posto è lato Salam Aleikum Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum Igaro Igaro Figaro 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 Bene ragazzi Io vi auguro una buonanotte Buonanotte Tato Ci vediamo alla prossima Alla prossima puntata Ciao Salvo Ciao 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 Buonanotte Ciao Monti ciao ragazzi Beh l'Antoni com'è? Ciao bello Tutto a posto Tutto a posto Tutto a posto birrettina? Si sboccia la figa? Nooo no no C'è da morire qua Non ti rinfresca la birrazzina? No 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 Ho il gelato Gelato Va bene anche quello La Marty sta proprio incazzata Tutta muta Lì nell'angolino Quella rabbia dentro eh Anche lei sente caldo Mischio Eh si Blade Mi hai fatto incazzare la Marty Da qua oggi Ma come? Oggi qua c'erano 47 gradi Eh ho visto la foto Mamma mia Mamma mia Bastante bra Ma secondo te Che cazzo è Sara? Eh si E' la ero Madonna O' illegale Ho giusto Tommi Tommi Lì Bada Lì 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 Sì, 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 sì. 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 No, no. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 . Sì. 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 ti spiace 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 i Grazie a tutti. Tutto pronto, al zona di guerra, via! Si dorme raga, dai gazzò! Dai ragazzi, state! Dai ragazzi, state! Bye bye! Tende, tende! Tende, tende! Tende, tende! Tende, tende, tende! Ho chiamato... No, siamo tutti zembre! Te sei a contro! Troppo tu l'ho dato da dentro! Ve lo lasciati sui soldi, ve lo lasciati sui soldi! Raga, va per lodi! Dove, dove, dove! Via! Guarda, non ti sono stati adirsi nel poso! È in poca! Ho giusto! 200! E' che aveva lasciato 2000 raga! Quarpa che non ce le abbiamo! Mancavano ragazzi, guarda! un attegna dentro casa una attegna dentro casa una attegna e porco giuda porco dove dove eh ma perchè metti razzi nooo nooo guarda niente no no due guarda tutto guarda niente è qui 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 qua dietro l'ultimo dai raga vai vai vini verso sinistra sono tutti giuro raga ci serve una mano qua giù tutti qua hanno risciato hanno risciato con 3 risciotto è in stiva raga aspetta aspetta e mi sto piazzando monti niente su control non venito mai start control controllo 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 bella Ale ciao 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 ragazzi buonanotte controllo controllo Michael grazie per il like bello buonasera Paul dove sono i cattoli? cosa? minchiai detto dico dove sono gli altri due? Ale è staccato Luca è esploso è imploso eccomi che fai scappi? è caduto aggiornamento playlist ahia allora Lucchino come è andato al lavoro? ahi Luca e che è caduto? si sono ci sono chi è caduto? ah le ho detto come è andato al lavoro tutto bene? ah ma ho messo tutto a posto ma le ferie? mai? a novembre dicendo quante settimane? tre? no vabbè io mi fermo proprio per sto dicembre a fine dicembre mi fermo per un paio di mesi ah si fermo proprio ok top però quando lavoro poi dopo non faccio quasi mai festa ah normale è così ma poi non ci sono neanche non voglio nessuno più vuole lavorare ah beh potrebbe essere di cittadinanza e ci devo venire a farlo no spara subito Antonino non si trattiene come? ho detto spari subito non ti trattieni proprio bam nei denti proprio così dritto a dentro proprio tranquillo oh no va arrivando un nemico avvento il ragazzo no ma atto attenzione non voglio essere reinteso cioè direi di cittadinanza è è giusto per le persone mischine che non hanno lavoro va benissimo però dovevo essere pensato magari in maniera diversa ecco in questo senso dico e poi è giustissimo anche tutti prepararsi al lancio sulla zona di guerra dove andiamo ho detto prima di andare a fronte dove volete voi dove volete voi decidete voi sopra sotto chi ha pingato chemical no no vuolete andare o chemical chemical o nova chemical chemical va bene mi dispiace devo andare abbiamo abbiamo i soldi per l'all out disturbatore nemico individuale nella nostra area poi la scelta i soldi è al parello una bella casetta vedete dove è parla 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 sopra sopra il bagno non è il bagno è il bagno è il bagno addio minchia non lo dici fra è il bagno eh per forza sette e mezzo no è qua mi sono dietro due 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 a te non è qua avete fatto a quei due sì no ce n'è uno qui sopra guarda è qua apposta a terra lo finisco io lo finisco io mi ci puto i soldi atto ok che fai an cazona un cazona teniamo uno a terra sotto di voi Monti ah no 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 a me si no no a casa vostra lì grande ma mia Luca sta facendo il devasto che stai a combina Luca non mi caga mi odia va bene mi stavo pensando ti ho messo in difficoltà ragazzi mi piace così io sono una gente da Windy Opho gioco per l'Opho nooo ho che stare in piedi a calla eh cazzo duro flosho oh 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Marco grazie per leg Scapparami No no non ti caro Aspetta 9 secondi Andiamo a prendere il loadout? Sì 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 Andiamo a prendere il loadout? Andiamo a prendere il loadout? Andiamo a prendere il loadout? Non puoi No, andiamo a prendere il loadout Oh, non c'è stato capace di venire giù. Lei lega da super like. E' il porco giuro senza molestione. E' uno dove sono morto io. Che cavolo! Occhio, c'è chi? Vedo un tiratore! E' che uccidono adesso! L'operazione è fallissima! Attenzione! E' rinforzi solo in arrivo! E' morto loro a tutta. E' morto loro a tutta. E' morto loro a tutta. E' morto la nasce! E' morto loro a tutta l'altra! E' morto loro a tutta la partita! Come cazzo si fa? Sono si forse! E non puro tanto! Che rinforzi solo in arrivo! Dai! 2 volte consecutiva c'è il risultato il tuo alleato è appena rientrato che sei un cretino sei no hai insultato il compagno poverino non 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 che cazzo è una buona cosa come qua? non atterra sotto dove vuole sotto dove? che ha visto da parte a me ma che mamma in a me 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 ho sbagliato devo andare dentro casa che palle a me a me a me a me dai farò l'ultima ok a me 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 Grazie. 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 Dai. Vai. Sì. L'ultimo game, fammelo col botto. Bella win, 50 bombe e via. Dai, dai. Quanta cosa hai tu? No, no, voi, voi, io ne faccio due o tre. Tutte vostre sono. Sono farsi mognoso, ve le lascio, ve le lascio. Sì. 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 No. Sì. 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 A tutti i скuratori. Sì. Sì. Sì, ero again buona, buona, bravissima diamo i soldi si, 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 si avete fatto? si, ce ne sono altri due sopra? hai troppo di soldi? io si, ecco bravo dove te l'ha fingato l'altro? oh non lo so forse è sopra ma era qui? che uno l'ho fatto certino l'altro, un altro bombarda, occhio no, no, no è a computer è a computer è a computer è uno solo mazza l'operazione fallisce attenzione assalendo non è lui, ce n'è un altro ok e ancora devo prendere il load out no, no, dove? non ho capito niente forse dalle casette non lo so dai cannoni ma arrivano puliziano in due almeno perché non mi prende l'arma da me da me mi starà una mano date dove sono negli angolini non andate non andate aspettate lì non andate non andate è stata compiuta ma cazzo è salito questo senso di poco magari non c'è l'arma ah dio non ho messo l'altro non ti c'è l'altro non c'è l'altro è stato un po' di merda no, va già un'lucky boh raga dai io me la stacco buonanotte buonanotte ciao Monti grazie sempre grazie a voi Stefano grazie per il like va bene raga io stacco grazie a tutti per la compagnia spero vi siete divertiti noi ci becchiamo domattina sempre dalle 9 fino a mezzogiorno un bacione buona serata e buonanotte ciao belli